Vengono in mente le cose che qualcuno potrebbe chiedere effettivamente, che posso perdere qualcosa A quel punto ho detto, facciamolo in live o almeno così Anche i ragazzi possono chiedere E può piacere di più, ecco Come stai, Monda? Buongiorno, bello Ma questo, ragazzi, è bloccato? Si era bloccato, raga Lo stava sparando, il brother Si era bloccato, il brother Ciao, protecsoni Ciao, Leo Buongiorno, belli, come state? Sì, ma che lobby ho beccato stamattina già Ragazzi, che cos'è sta lobby? Raga, ma che cos'è sta lobby? Cos'è sta lobby, raga? Non di da Perdete terreno, muovetevi Piccione berro Che lobby di granchioni, raga Ma estrema, ma estrema, proprio Era Jackie VII Aspetta No, andiamo fuori No, andiamo fuori No, andiamo fuori No, andiamo fuori I nemici non ti cercano più Gli inseminati Will Longbow 3-1 Versaglio acquisito Ciao, Pio Sì, secondo me Secondo me Rebirth piacerà tantissimo E far ritornerà Torneranno a giocare tantissime persone Ragazzi È una mossa Secondo me Più che corretta Come anche torneranno a giocare Con Verdans Speramente molti altri Grazie mille Grazie mille Che bello mio Per i bittozzi Thank you so much No, c'è che non le monete per terra Uccisione confermata Sappiamo dove sono gli altri Ah, le ranked Le ranked su Su ritorno Secondo me, raga Sono letteralmente Una mossa di marketing Giuro Che nel senso Sanno che le giocano Troppi di più Perché secondo me Le ranked sul BR È ovviamente Molto più da 3-yarder Quindi Avrebbero meno utenza Secondo me Mentre probabilmente Far sperimentare Un tipo di format Simile Anche a No, quello non voglio fullarlo Anche 3-yarder Per loro Ovviamente È buono Quindi Per questo motivo Secondo me Hanno scelto ancora Ritorno Però ovviamente L'ultima season Non sarà più Su ritorno Credo A meno che a questo punto Non facciano le warsire Su ritorno Perché Arrivano dei nemici Attenzione in alto Ho marcato gli altri operatori Di quella squadra Staniamoli Non può entrare Può entrare Entra Guardate C'è un full focus C'è un tipo Che non trovo Regà Grazie in arrivo Ci serve una ricognizione aerea Soldato nemico in arrivo Il resto della squadra Sulla mappa tattica Grazie Mi depolano Per i due bonamenti Che lobby è E' confermata Sappiamo dove sono Gli altri Guarda che lobby è Oh Devo Una ricognizione Sparco il resto Della squadra Sulla mappa tattica Buona caccia Ma raga che lobby è C'è gente ferma Sappiamo dove sono Gli altri Bru Lu Oh 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 Ho marcato gli altri operatori di quella squadra, staniamoli. Altima uccisione. Marco, il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. Nemico in arrivo nell'area. No. Ok, adesso. Ragazzi, non cago la chat. Sorry. Sorry. Ma è anche un play troppo goloso, davvero. Uccisione confermata. Sappiamo dove sono gli altri. Saldi attivi. I prezzi delle stazioni di acquisto sono... Ammule. Ultima uccisione. Marco e il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. Spalli a terra. Arco i tuoi compagni. e 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 buona caccia steggio a terra marco i suoi compagni saldi conclusi prezzi in aggiornamento gas in movimento nemico a terra cerca gli altri sulla mappa tattica arrivano dei nemici attenzione in alto e 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 uccisione confermata sappiamo dove sono gli altri ritorno non disponibile non la va o la spacca richiedo ricognizione aerea madre e 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 in avvicinamento e 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